Beh, non esattamente però, sì, abbiamo già suonato in pubblico, anche se per beneficenza. È quello che vi manca. Un concerto dal vivo. Fatevi una bella tournée, servirà a farvi le ossa. Perché il pubblico bisogna guardarli in faccia, bisogna imparare a sentirlo, averlo in pugno. E tra una serata e l'altra, cercate di conforre dei pezzi nuovi, ispirandovi a quello che vedete, alle vostre esperienze. E quando ritornerete, vi garantisco, vi do la mia parola che il disco si farà. Una tournée? E per organizzarla come faremo? C'è Max, è in gambissima, Max è bravissimo. Allora, occupatene tu, esigi che si spremano le meningi, va bene? Anzi, vi firmo subito il contratto per la produzione del vostro disco in autunno. In questo modo voi siete più tranquilli e io mi tutelano nei riguardi della concorrenza. Mi raccomando però, fra tre mesi bisogna incidere. E adesso scusatemi, ma devo scappare all'aeroporto. Quando torno però, vorrei che voi mi facesse trovare della musica fresca, giovane e giusta. Siamo d'accordo? L'abbiamo distrutto il vecchio, eh? Max? Max? Arrivederci, mi potresti spiegare la situazione in parole più semplici? Sai, è successo tutto così velocemente che io non ci ho capito niente, ti giuro. Va bene. Se vi dico che state per cominciare una tournée sotto là la protettrice della New Capital, vi si chiariscono le idee oppure no? D'accordo, ma l'LP? Sì, l'LP, dopo quello. Adesso andate a Perugia, preparate le valigie.